Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi, dopo avervi portato la guida al 442, vi porto la guida a quello che è un altro modulo meta, come vi piace tanto definire questi moduli, ed è il 4231. Un modulo che a inizio anno, insieme al 442, ho testato, mi è piaciuto, però al momento preferisco il 442, ma il 4231 rimane validissimo. E a proposito, si sposa a quella che è la mia filosofia, di dire che non esiste un modulo per eccellenza, ma esiste il modulo che voi fate rendere in maniera eccellente, quindi magari io mi trovo col 442, voi vi troverete col 4231, motivo per il quale oggi ho portato quelle che sono le mie tattiche e le mie istruzioni da condividere con voi. Quindi, classica e solita transizione per cambiare scena. Mi trovo su Play, perché stavo facendo delle cose su Play, quindi ho detto, lo registro da qui, non fate caso alla squadra. Andiamo a vedere immediatamente quelle che sono le tattiche. Per quanto riguarda la difesa, potete vedere, equilibrato, ampiezza 5, profondità 6. Perché utilizzo ampiezza 5 e profondità 6? L'ampiezza mi permette di poter stare abbastanza largo con la mia squadra, in maniera tale da non trovarmi troppo stretto al centro e lasciare il campo a quelle che sono le imbucate sulle fasce dei miei avversari, che su FIFA 21 si portano tanto. Profondità ho optato per 6. 6 perché in un gioco dove la difesa tende a stare alta, a questo punto ho pensato di sfruttarla con il 4231 e cercare di recuperare palla più alto, in maniera tale da poter appunto partire in rapidità con un contropiede e di conseguenza andare a scaricare palla sui miei COC esterni e magari entrare in aria con facilità. Per quanto riguarda lo stile d'attacco, ancora una volta equilibrato, in maniera tale da poter andare a gestire quella che è la manovra offensiva come meglio credo, ampiezza 5 per tenere quelli che sono i COC abbastanza larghi e aprire quelle che sono le difese avversarie con il classico azione dall'esterno verso l'interno. Per quanto riguarda giocatori in aria, 4 perché voglio che l'azione venga fatta tutta quanta al limite dell'aria e poi dentro l'aria mi ci vado a inserire io quando ritengo che sia il momento giusto e opportuno oppure si siano aperti degli spazi o appunto gli spazi li ho fatti aprire io, angoli 2, punizioni 2 per eventuali contropiedi appunto non voglio che la mia squadra sia esposta a stupidi contropiedi da quelli che sono calci piazzati in mio favore qualora dovessi perdere palla. Per quanto riguarda le istruzioni sono abbastanza classiche, abbiamo ai terzini il solito resta dietro in attacco a entrambi, per quanto riguarda i mediani resta dietro in attacco, copertura al centro quindi solito, niente bullshit varie, marca uomo, toglie linee di passaggio perché non ne vale minimamente la pena, per i due COC esterni o entra in aria per il cross, al COC centrale assolutamente nulla e alla punta assolutamente nulla. Perché non metto al COC rimane avanti e alla punta inserisciti alle spalle? Ve lo spiego subito, perché il COC in questo modo mi darà una mano, verrà anche magari a far ripartire l'azione un po' più da dietro, mentre per quanto riguarda la punta non voglio che vada via e scappi senza che glielo dica io, spesso magari infatti voglio giocare con la punta anche fuori dall'aria in maniera tale da fare magari falso nuove e lanciare gli esterni, COC esterni che tagliano dentro l'aria, la punta poi arriva e può finalizzare. Di conseguenza questo è il motivo per il quale ho optato per una scelta in tal senso. Diciamo che questa è la formazione del 4-2-3-1 quando la partita inizia, quindi quando siamo sul risultato 0-0 eccetera eccetera. Quando invece voglio andare a gestire il risultato, quindi magari la partita sta finendo, che cosa faccio? Abbassiamo, quindi sempre equilibrato, ma stavolta abbiamo 4-3 perché appunto non voglio stare troppo alto, non voglio espormi a stupidi rischi, magari appunto se c'è da soffrire soffriamo un po' più bassi senza dover fare dei recuperi troppo alti. Per quanto riguarda lo stile d'attacco, stavolta invece andiamo a mettere palla lunga, aumentiamo l'ampiezza e diminuiamo ancora ulteriormente di uno step quelli che sono i giocatori in area. Quindi lo schema è chiaro, no? Contropiede, recuperiamo palla, lanciamo palla lunga, infatti con palla lunga i COC esterni partiranno in automatico, cercheranno subito di aggredire lo spazio cercando appunto di guadagnare terreno e di essere pronte a ricevere quelli che sono passaggi filtranti e lanci lunghi. Per questo la mia raccomandazione è quella di avere comunque dei terzini che abbiano dei piedi buoni. E qui veniamo a quella che è la seconda fase del video, come l'altra volta, suggerimenti per quelli che sono i giocatori per ruolo. Ovviamente, vi dicevo, terzini rapidi, con piedi buoni, i DC anche qui, come l'altra volta, buono se rapidi e fisici. Per quanto riguarda i mediani, invece, abbiamo bisogno di magari un giocatore full defense, che può essere anche un Sissoko, il top ovviamente è un Viera, e un altro anche magari con piedi buoni, come può essere magari un Blank, o può essere anche più in maniera chip un Pogba, o anche un De Jong, capito? Così, in maniera tale che copriamo un po' tutti i budget. Per quanto riguarda il COC, chiaramente abbiamo bisogno di un giocatore possibilmente con 5 skill, ancora meglio se con 5 piede debole, e che ovviamente abbia ottime doti di passaggio. Per i due COC larghi, anche qui, sarebbe importante avere le 5 skill, ancora meglio il piede debole. Caratteristica che devono avere è quella della velocità e della fisicità, in maniera tale da poter andare via con le skill, con i doppi passi, con la finta di tiro di prima, eccetera, eccetera. Prima punta che quest'anno richiede per me la 5 skill e non i 5 piede debole, è meglio ovviamente se c'è anche il 5 piede debole, ma è fondamentale girarsi con elastici, eccetera. È fondamentale che la punta sia in grado di skillare per essere creativa e sorprendere quelle che sono le difese avversarie. Anche qui, velocità e fisicità abbinata a 5 skill, abbinata anche a 5 piede debole, sarebbe il top. Quindi, per quanto riguarda, raga, la guida al 4-2-3-1, raga, fondamentalmente è tutto. Fatemi sapere se utilizzate questo modulo, le vostre tattiche, eccetera. Like e commento, robe da youtuber come al solito. Io vi do appuntamento sul canale a un prossimo video, vi auguro una buona giornata, raga, e ciao ciao.